Suo zio le è stato affidato agli assistenti sociali, sia per i suoi precedenti che per la fase di riabilitazione post-incidente. Questo giacchetto è il mio primo furto che ho fatto al Porto di Livorno. Avete firmato per fiduzioni bancarie, scoperti di conto, prestiti, non avete mai pagato. Adesso l'immobile va all'asta. Nedo, paghi il suo debito. Perché te hai un'altra banca? Certo tesoro. Io ti ho insegnato a rubare, sì, perché eri piccina e avevi 5 anni, però ti ho anche insegnato da grande che devi andare a lavorare. Stefano dovete cercare di fare una vita più tranquilla per il bene di tuo zio. Guarda che bello intimo fanno i nostri amici. Ops, mi scusi. Non ti provi a tradirmi soprattutto con quella. Ah bella, ma a te la febriciattola non ti viene mai. A me mi devi dare le mie lire e mi vado a cercare la ritmo e non se ne parla più. Ma convinto, la voglio anche io la ritmo e non la fanno più la ritmo. Mi hai tradito qui in casa? Ma che stai a dire? Ma chi ti ha tradito? Ai miei tempi ero un altro mondo, eravamo più romantici. Ma a te? Che giri hai? Che giri ha? Tieni, prendi questo e ti rimetta il mondo. Andrea, ma che sigaretta gli ha dato tutta torta? Mamma mia che cucino per venino che c'hai? E trodo io lo champagne e fa morire la tua zia!